Ciao amici, ciao a tutti, qui Giuseppe Scaffarelli, sono qui con Alias Vapetic, naturopoda e counselor. Sappiamo che la medicina tradizionale, sia quella tradizionale che quella alternativa, mirano a curare le malattie. Quella ufficiale è rivolta sempre più alla cura del sintomo, mentre quella alternativa è sempre più legata alla parte vibrazionale come origine del problema. In questo campo sta avvenendo una rivoluzione anche nel settore degli integratori alimentari, che stanno facendo un salto quantico secondo il naturopata Alias Vapetic, che è qui con noi. E quindi Alias, puoi dirci qualcosa in più riguardo a ciò che sta avvenendo? Grazie, José. Sì, siamo testimoni di un salto quantico vero e proprio, in quanto se osserviamo lo sviluppo degli integratori negli ultimi decenni, possiamo osservare come innanzitutto hanno iniziato a incorporare sempre più sostanze in un unico solo integratore, proteine, minerali, vitamine, enzimi. Poi il prossimo passo erano le parti colloidali, quindi le particelle colloidali che riducevano le sostanze per avere un maggiore assorbimento cellulare dei nutrienti. E adesso, come ultimo, sono le nanoparticelle con un po' il standard della qualità, almeno a livello di assorbimento e utilizzo delle sostanze. Però, se guardiamo questo sviluppo, stiamo sempre parlando di un trattamento a livello solo fisico, con un specifico effetto fisiologico. Mentre il salto di cui vorrei parlare è praticamente vibrazionale. Gli integratori che stanno salendo adesso, gli ultimi, riescono a toccare anche il DNA, ma non il DNA fisico che lo lasciamo alla medicina ufficiale, ma a livello vibrazionale. E qui c'è il grande cambiamento, perché tutto quello che esiste nel nostro corpo ha prima esistito in un mondo sottile, vibrazionale, che è informazione. Questo ce l'insegna la psicosomatica, dove si sa che c'è una relazione fra mente, emozioni e corpo. Ce l'insegna la pnei, la psico-neuroimmunologia, ma è semplicemente il buon senso. Quando ho preso una coppia innamorata, voglio un bambino, c'è prima un desiderio, c'è l'amore, c'è una visualizzazione al limite, non c'è un sentimento. E poi c'è la gravidanza. Quindi immaginiamo questo cambiamento come una sostanza che riesce a lavorare un po' come un computer e una stampante. Il computer è dove noi virtualmente abbiamo tutte le informazioni, possiamo cambiare a piacimento. Questo sarebbe il DNA vibrazionale. Dove tutto quello che succede lì poi influisce sul DNA fisico, che è la stampante, dove arriva l'informazione e stampa il pezzo di carta. Questa rivoluzione va a lavorare sul DNA vibrazionale, o anche, chiamato da Robert Sheldrake, il campo morfogenetico. Questa sostanza di cui vorrei parlarvi oggi, che secondo me non sarà l'ultima, ma è una delle prime, secondo me, o almeno quella che è più famosa in questo momento, si chiama il policosanolo, che se poi noi andiamo a vederlo, a cercarlo come ricerca, si vedrà che è una semplice sostanza presa da una cera di canna da zucchero, o anche di altre sostanze naturali, quindi è un cibo, che riduce i trigliceriti in colesterolo. Ma questo è il prodotto del comune integratore alimentare. Non stiamo parlando di questo tipo di policosanolo, ma di quello in nanoemulsione. Cioè è un policosanolo che è stato trattato in maniera speciale, dove un piccolissima parte, un po' come il principio omopatico, ha la capacità di comunicare direttamente col DNA vibrazionale dell'essere umano. E come hanno scoperto questo? Hanno scoperto questo perché hanno scoperto che il policosanolo a livello di espressione genica è al 98% uguale a quello umano. Quindi immagina te una matrice del DNA che non ha subito nessuna mutazione, nessun trauma umano, non ha l'effetto del DNA nostro, purtroppo soffre anche di una serie di influenze negative dei nostri antenati, le nostre vite passate, dei nostri stessi traumi e poi anche di alimentazione, tante altre cose. Riceviamo oltre decine di migliaia di attacchi al giorno. Ci sono prove scientifici su queste cose ormai, non è una cosa che solo noi naturopati parliamo, terapeuti alternativi. E quindi il policosanolo ha una matrice sana, integra, senza danni, che si mette in contatto con il DNA vibrazionale umano e gli dice ricordati chi sei, un po' come il film Walt Disney di Ray Leone, se ti ricordi, ricordati chi sei, e gli dà quello che gli manca o toglie quello che è in eccesso. Quindi il nostro potenziale genetico inizia ad esprimersi geneticamente nel suo pieno potenziale e inizia quindi a rigenerare, a disintossicare il colpo a tutti i livelli. Quindi dal DNA della cellula a tutti i tessuti, il sangue, organi interni, qualsiasi cosa, con le cere tempistiche, ovviamente. Quindi questo è il grande cambiamento. C'è una ricercatrice, si chiama Caroline Mansfeld, lei è un'appassionata anche di integratori, ma soprattutto è una microscopista, analizza moltissimo degli integratori naturali e ha messo in prova questo policosanolo in nanomulsione sotto microscopio ingrandito di 1600 volte. Cosa è uscito fuori? Una luce pazzesca. E noi sappiamo che luce è informazione, luce è vibrazione. E quello che ha scoperto il biofisico Alfred Fritz Popp nel 1976, ha scoperto che c'è una coerenza vibrazionale dei biofotoni chiamati da lui, queste partizie di luce, lui li chiamano biofotoni, nelle persone sane. E c'è una mancanza di coerenza dei biofotoni nelle persone ammalate. Lui stesso dice che noi siamo esseri di luce di fatto e quando vogliamo creare una guarigione bastano dei deboli fasci di luce. Quindi in qualche maniera che neanche l'inventore, un medico indiano, il dottor Radovan del policosanolo, non sa esattamente come ha scoperto questo, come funziona il meccanismo. Però sta notando dal 2008 già, non è una così recente questa cosa, ma è arrivata da POC in Europa che si sta manifestando questa novità, che ha questo effetto sul nostro espressione genetica. Se mi permetti, Alec, quindi questo dal punto di vista di una persona che utilizza questo tipo di integratori nuovi, qual è la differenza con un integratore vecchio sul piano pratico, per capirci? Per esempio, ogni integratore che è sul mercato, almeno quelli che conosco io, hanno un specifico effetto fisiologico, perché quando li assumi deve attraversare il sistema digerente e quindi crea dei meccanismi, delle reazioni biochimiche nel corpo e sono limitate a seconda della sostanza. È vero che ci sono integratori che hanno molte sostanze dentro, hai molte reazioni e benefici, però è sempre limitato alla sostanza. Il policosanolo in nanoemulsione va direttamente il DNA attraverso i biofotoni, non passa attraverso il sangue, è istantaneo, è informazione che viaggia al corpo, al DNA e non modifica nulla come può modificare una sostanza specifica naturale, semplicemente comunica, è un comunicatore, comunica il DNA vibrazionale che comunica a quello fisico di autoguarirsi. C'è il paradigma a cui c'è che il corpo ha, a un certo punto, grazie a questa informazione, riesce a vedere, ha più consapevolezza di quello che non dovrebbe stare nel corpo, dove c'è da correggere, dove c'è stata mutazione e ora non c'è più e inizia a correggere se stesso da solo. Non fa nulla la sostanza in sé, il policosanolo non ha importanza come effetto fisiologico, non esiste, infatti c'è solo l'1% del policosanolo in questo, è un liquido o in crema di solito, il policosanolo di nanoemulsione, e solo 1% è di sostanza, il 99% è acqua incontaminata. Quindi non ha l'effetto di un vibratore che è contrapendo a capsule piena di polvere dentro, qui non c'è quasi nulla dentro, è informazione. Quindi praticamente è come se nel primo caso degli integratori sia l'elemento biologico degli integratori che va a dare qualcosa di positivo all'organismo, mentre invece in quest'altro caso è lo stesso organismo che viene come riattivato o potenziato per andare a guarire qualunque sia la cosa da guarire nel corpo. Quindi potrebbe essere anche una malattia di qualunque tipo, comunque il DNA andrebbe ad agire su quella malattia qualunque essa sia, oppure ci sono dei limiti su questo? Non ci sono dei limiti. Ti do un esempio, un esempio molto interessante sul Parkinson, per esempio. Il policosanolo gestisce oltre 2300 geni umani, e solamente del cervello oltre 260. E c'è uno specifico che si chiama C-A-M-K-V, CAM-K-V, che è un gene che è connesso con la riparazione neuronale. E questo gene lavora molto male in caso di Parkinson, non so, anche Alzheimer, devenza senile, AD, ACD, tutti i problemi neurologici. Con il policosanolo, attivando questa memoria del DNA, di come dovrebbe lavorare il suo pieno potenziale, e non con questa malattia, che spesso è anche presa dagli antenati, per esempio come Parkinson, questo specifico gene viene incrementato di 6.000 volte mediamente. E quindi puoi immaginare che capacità di rigenerazione che ha sul corpo. E infatti abbiamo casi in cui la recupero di un paziente del genere, parliamo di un anno circa, di assunzione del prodotto. Addirittura, ma è straordinario. E scusa, non so se questa domanda è fuori contesto, perché mi viene in mente, ma questo quindi potrebbe anche essere un forte antistress per agire sugli effetti dello stress, per esempio. Allora, sì può, però non è un prodotto, una sostanza che ti dà un rilassamento. Però, se lo stress è dovuto a intolleranze alimentari, a processi infiammatori, a qualcosa che tu stai assumendo, che ti sta facendo danno, perché lì è un problema genetico, quindi fisico, a quel livello si ti aiuterà con il tempo. Perché i lavori di autoguarigione del corpo funzionano in questo senso. Lei lo dice, e anche l'inventore, questo dottor Ragavan dice, per ogni anno di malattia che hai avuto devi assumere due o tre settimane di policosanoro per poterti sanare. Quindi è una questione di quanti anni hai questo problema. È come se il corpo ha bisogno di più informazione, più tempo stiamo soffrendo di questa malattia. Quindi se, per esempio, tu, José, da un esempio, hai un problema di intolleranze alimentari dalla nascita, perché sei nato con questo, e per esempio hai 40 anni, con due o tre settimane di policosanoro dovresti assumere per circa un anno, un anno e mezzo, per recuperare la tua capacità di espressione genetica tale che ti permette di digerire tutte le sostanze, chiamare il glutine o il lattosio, che tu non puoi normalmente digerire. Mi sembra comunque un buon affare. È diverso, perché io, le persone che mi contattano su questa cosa, se mi dicono, ma funziona per questa malattia? Mi funziona per questo disagio? Dico, certo, è solo questione di tempo, però ovviamente non possiamo pensare che prendere una cosa del genere è vivere con mali, ambitudini di salute pessime, che può essere mangiare molti dolci, sai, avere pessime abitudini, devi avere tutte le sostanze nel corpo necessarie affinché il tuo corpo possa guarire, quindi tutti i minerali, le vitamine, cioè devi mangiare sano, in qualche maniera, una vita sana devi averla, perché se no c'è un limite in questo, no? Molto, molto interessante quello che stai dicendo. Una domanda che potrebbe farsi qualcuno è ci sono delle possibili controindicazioni, qualcosa che possa apportare per qualcuno, se per qualcuno può far male, qualcuno che ha qualche tipologia di disagio, e poi... Scusa, mi sono incartato. Aspetta. Ti posso rispondere a questo se vuoi intanto, che è già molto interessante. Qui parliamo di informazione. Non c'è un contatto, non c'è una... Il passaggio che fa il policosano non è attraverso il sangue, è attraverso i biofotoni, è attraverso l'informazione, quindi non va a scontrarsi con una sostanza fisica, perché è quello che dice al corpo, con la sua intelligenza, di gestire la salute con quello che ha dentro, no? Quindi il corpo è cosciente che sta assumendo questo farmaco, questi cinque farmaci per questa malattia, che sta mangiando così, che sta facendo queste cose. E quindi il policosano non è semplicemente solo gli apre di più delle opportunità, delle opzioni, per gestire al meglio questo, no? Quindi non va in conflitto con nulla. Non c'è anche un problema di malassorbimento, perché non c'è da assorbire nulla. C'è solo da assorbire informazione. Per quello non devi essere sano, è sufficiente essere vivo. Ok, ci sono alcuni integratori, diciamo più che integratori, io parlo di piante sacre, perché quello è più il mio settore, che vengono, che hanno un potere enorme sulla salute, sulle persone, però possono essere inibite, ad esempio, penso alla pianta del cacao, no? Il cacao ha delle proprietà meravigliose, che però, se viene assunto insieme al latte o allo zucchero, viene completamente inibita ogni beneficio. Mi chiedevo se anche in questo tipo di integratore ci possa essere qualche inibitore, qualcosa che... Non ce ne sono, non ce ne sono neanche uno. Ok. Ti dico, è l'unico che finora ho trovato, perché devi percepire come un cibo, è un cibo, come un riso, a meno che non sia intollerante il riso, ma anche questo non è giusto come paragone. È un'informazione, è come l'acqua, è così, è veramente, non va in conflitto con una sostanza, perché lavora un'altra dimensione, qui c'è una dimensione fisica, dove lavorano tutti gli integratori, le medicine, i farmaci, e qui lavora il policosatanolo. Ok, è un'altra dimensione. Un'altra domanda che mi viene in mente, questa più da ricercatore spirituale, sappiamo che nel DNA ci sono tantissime informazioni che riguardano sicuramente la salute del corpo, ma ce ne sono anche tante che ci derivano dai nostri avi, come anche programmi inconsci. quindi, per esempio, con convinzioni limitanti o cose di questo tipo. Pensi che un prodotto del genere che agisce sulle informazioni del DNA possa addirittura andare a pulire anche questo tipo di cose? Io sospetto che no, perché il policosatanolo, quello che fa, non è che ti modifica proprio il tuo DNA, cioè tu se hai i colori marrone ti rimarranno sempre marrone. Quello che è la modifica che avviene è nell'espressione genetica, quindi della tua genetica. Quindi se nella tua genetica c'è un'espressione disequilibrata su una convinzione o su un trauma, quella rimane, però, quella rimane del DNA, quel tuo profondo, però l'espressione genetica verrà trasformata finché non faccia danni alla tua salute. Ma il tuo lavoro devi sempre farlo nel profondo. E una domanda che uno può fare, ma se io prendo il policosatanolo, devo prenderlo poi per tutta la vita per avere questi effetti? È una tipica domanda che a volte mi fanno, no? Allora, dire la verità, per il fatto che esista solo circa 12 anni, 15 anni sulla Terra, non abbiamo sufficienti dati per dire qualcosa in merito di definitivo. Però adesso, chi dopo un anno finisce di utilizzarlo, o sei mesi, la malattia può tornare lentamente perché nella informazione di fondo nel tuo DNA si è mai risolto si comincia a ripercuotere, a ripetere un'altra volta. Quindi sì, poi dovresti avere un rosaggio di mantenimento minimo per evitare questo, no? Io credo che mai verrà fuori una sostanza che sostituisce la conspevolezza e il lavoro che ognuno di noi deve fare. Questo no, non esisterà mai. Però che ci facilita un po' il cammino visto che viviamo in un'epoca molto complicata, molto complicata, dove il nostro DNA viene attaccato come non mai negli ultimi anni, io la vedo come veramente una benedizione questa sostanza. Quando mi parli di DNA attaccato, la terza volta che mi viene in mente il 5G, questo tipo di radiazioni possono attaccare il DNA e questo policosacanolo può, diciamo, se non difendere, almeno riparare i danni fatti da una radiazione? La radiazione vedi qualcosa che si vicina di più a una vibrazione anche, no? Cosa che non vediamo fisicamente con gli occhi, quindi anche quella cerca di modificare la nostra espressione genetica. Quindi prendendo policosacanolo in nanoemulsione andiamo a contrastare il 5G. Però di nuovo, se abbiamo un'antenna a fronte a casa nostra prendere il policosacanolo ogni giorno non so se è sufficiente, no? Sicuramente è d'aiuto. Questo sì. Questo sì. Prima di che qualcuno si metta a fare mille ricerche su questa cosa per trovare quale possa essere un tipo di policosacanolo valido o non valido microemulsione, oppure diverso, eccetera, magari possono rivolgersi a te le persone oppure cosa consigli per trovare questo tipo di prodotti che siano di qualità alta e non qualsiasi? Beh, il consiglio che do è sempre informarsi. Io offro sul mio sito anche una mailing list dove ci sono molti approfondimenti. Però purtroppo a questo momento di policosacanolo in nanoemulsione hai una in atto adesso in vendita ci sono poi altre cose simili però io mi sono spiritualizzato in questo quindi io posso dare un'informazione per quello che ho studiato su questo tipo di policosacanolo quindi non posso darti un'informazione totalmente imparziale perché ho solo questa che posso darti un'informazione perché è limitata la formazione che c'è su questa vi dico siamo e come siamo pionieri in questo José ti posso dire che la più grande ostacolo che ho è che le persone riescono a fare il salto mentale del oddio ma funzionerà per me questa cosa ma siamo sicuri che questo è per me ma perché siamo sempre cerca di io sono una persona unica speciale ho bisogno di una sostanza che funzioni veramente per me quello che anche la medicina ci ha insegnato di fare invece qui crolla tutto questo crolla ma non perché il policosacanolo è unico e l'unico è più importante più bello no perché il concetto che è universale dice ti parlo con la tua DNA cellulare vibrazionale gli do le informazioni che gli sono mancate per motivi ancestrali genetici tutti quei traumi personali eccetera così ti apri gli occhi tu hai la totale consapevolezza e il tuo corpo si autoguarisce punto poi chiaro se uno mi dice ma se mi taglio la mano mi ricrescerà la mano no questo no se hai perso i capelli 30 anni fa mi li fai ricrescere tutti no perché manco i tuoi follicoli non possiamo fare miracoli no però su quello che c'è ancora in noi vivo lo ottimizza secondo la tua genetica questo sì per il miracolo ci stiamo ancora attrezzando eh sì per quello forse arriverà forse arriverà senti Alla allora io ti ringrazio invito gli amici a contattare Alla per avere maggiori informazioni perché sicuramente ci saprà indicare tutto quello che vogliamo sapere su questo argomento che mi sembra veramente molto molto caldo innovativo e onestamente non non era a conoscenza di tante cose di cui hai parlato e veramente mi ha arricchito molto ti ringrazio di cuore e saluto te e tutti quanti gli amici grazie grazie un abbraccio grazie a tutti